Come puoi fare? Devo dire che inizio non ne ho idea Guarda, sei fatto i bailing! Eh, vediamo, lui cerca di ricostruirci Oh, guarda quanto qui in produzione Ma che cazzo fatto? Io cerco di uccidere il blatt, ma non mi riesce perché tanto... Eh, questa si vedeva da l'inizio che era persa, dai Sì, praticamente, questa è... Iピomo lo spoiler He Mineho portali monobase i bailing Guardiamo cosa succede ora Unậpенно E anche perché a dieci minerai e la quantità di latte ecco le latte c'è una più lunga sembra che sguida se ti fai riusciti proprio a metterlo devi aiutarlo ma in pano che si avrebbe arriveranno che si avrebbe arriveranno guardate un po' ecco la caccia Eh, caccia, presenti come un shot che regava a metà, però provo io Ehm, devo uscire quello che devi tratti Per puro caso, eh, perchè non hanno nemmeno attaccato me verso lì E' quei bel link che arriva che mi si troceva Trababamba Grazie a te che hai lanciato fuori, io riesco a individuare il canto Ehm, unit composition veramente sbagliata da parte nostra Sì, esatto Vediamo un po', nel frattempo sta succedendo ogni tanto Sì, ci pingare finiti, è la morte Vediamolo fare Sì, è giustata E adesso... Io qua ci pado più fai Guardi questi cincioni Ma vai, vedi! Mi viene a ingararsi Mi ricordo che mi terrorizza altro Sì, mi finisci la Probabilità va a metterti la quanta Io ho paura su Io continuo a costruire torrette a poco Stai spazzuando tantissimo Oh, vitti, ho paura No, vedi una torretta No, vedi una torretta Vedi una torretta Vedi una torretta Però adesso arriva poi Prima tesai Stato qui mi slinggo Li volevo battare su Questo mi slinggo al su Li volevo testa al su Vedi tutto qua Non è vero 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 Ha finita l'energia Prima o poi Maledi Maledi Nel frattempo Qua su tesori Robert sta facendo I cazzi tuoi Sì, ma andata Ah, ma andata Ma andata Cacca Gio, friollino Ti va bene Andava bene Si fa bene Si fa Non è vero Allora vado a sciccare il su E' una base Allora vado a sciccare il su E' una base E' una base E' una base Allora vado a sciccare quella qui Ma fallisco In generale Non riusciremmeno a circondarla Noo dai dai la facevo fare il sorroundi il problema è che mi arriverà una massa di rocce incontenibile dobbiamo farmi da subito tra l'altro dobbiamo mandarci neanche meno io non mi ero accorto che tu eri scantato attenzione si diverte tra l'altro vedi i martigiani mappolare le torrette ma l'agente non si può ma abbiamo 3 acce 3 acce 3 acce io cerco di ricontruggire non trovo di firebuck io ora saranno loro io devo dire ho da tutti i lati che mi stanno arrivando guarda 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 si spara bamba mi sono venuto sprecato per uccitere guarda 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 Non ci sbagliate Non ci sbagliate Non ci sbagliate Non ci sbagliate Sbagliate Non ci sbagliate Non ci sbagliate Più ci sbagliati Ma poi perchè si filonano tutte le parti Guardate Ma perchè si sta sbagliando i filoni Si sto sbagliando una ricostruzione totalmente inutile perché cerco di fare queste calzate muto ma dai come sono vivo beh con due torrette caccio tutta cosa è stata bellissima io avevo due torrette e basta vieni trovato tra l'altro che non vengono assolutamente e attenzione a tre painling painling so perché li vuole piantare lì per fare cosa è un costo è un costo è un costo è un costo guarda 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 guard E basta, è finita la faccia appena spasciano al dietro, appena spasciano al dietro, si facciano. Nooo! Non è sufficiente! Ma tu mi fanno le strutture e i ballerini? Abbastanza, gli fanno 80 d'altro. E qui facciamo la partita. Bene, questo era il game 1. Poi ci saranno il game 2 e chissà, forse il game 3. Mi lasciamo che fate un sospeso. A tra poco. Ciao!